Ben successo della Juve Stabia sul forte Potenza al termine di un match da due volti. Primo tempo dominato dagli uomini di Cucchi e ripresa con qualche affanno per il giallo-blu. Ad aprire le marcature è stato Pizzo dopo 29 minuti, suggellando un periodo di nettissima prevalenza. Al 33esimo è Musella a rendersi pericoloso. Sansonetti, ex numero 12 del Napoli, gli risponde con una bella parata. Ma il portiere del Potenza un minuto dopo deve arrendersi per la seconda volta e proprio a Musella. Al 40esimo si fa male Monti che abbandona il terreno di gioco in Varella. Lo sostituisce l'ex veronese Più Belli, acquistato a novembre. Nella ripresa, dopo appena 60 secondi, ancora Gaetano Musella a chiudere definitivamente la gara. Sul 3-0 il ritmo della Juve Stabia cala di colpo e ne approfitta il Potenza che al 14esimo riduce le distanze con un bel calcio di punizione di Baglieri, anche lui ex azzurro. Al 26esimo anche Musella deve lasciare il campo rilevato da Romei. La quarta rete della Juve Stabia giunge quasi allo scadere e viene siglata da Lunerti che suggella così un successo vistoso che riporta il giallo-blu in zona playoff.